benvenuti a caritas insieme questa sera il tema il titolo della nostra trasmissione è il privato sociale ma vogliamo parlare di privato sociale a partire di persone concrete persone che il privato sociale l'hanno fatto e lo facciamo con uno dei protagonisti in ticino del privato sociale mimi leipori bonetti amica abbiamo fatto un sacco di cose assieme in carita se non solo e credo che pochi come te possano parlare del privato sociale questa strana definizione il privato sociale ha voluto dire negli ultimi decenni quindi nel pieno della tua attività e delle tue battaglie o in fondo delle nostre battaglie ha voluto dire un rapporto fra il privato queste entità private che si occupavano si occupano di chi sta meno bene il rapporto con uno stato sociale che cresceva che diventava più efficiente in questo rapporto sono cambiate tante cose è cambiata la funzione di questo privato sociale come spiegheresti questa trasformazione profonda che è un'esperienza di vita non solo teoria allora sinteticamente prima degli anni 1950 possiamo dire che tutti i bisogni sociali anziani persone disabili persone con problemi era la società civile le congregazioni religiose forme di associazioni che se ne facevano carico quindi questo era il privato sociale persone che si mettevano a disposizione per farsi carico dei bisogni degli altri quindi una caritas ticino con cortella una caritas ticino con cortella esempio chiaro lo stato non si era ancora organizzato come stato sociale nel senso che le leggi sociali sono nate attorno gli anni 1950 del secolo ormai scorso al momento in cui lo stato sociale ha cominciato a creare delle leggi prendiamo l'esempio in ticino la prima legge 1963 la legge protezione maternità infanzia tutti i bambini bisognosi tutte le mamme bisognose tutti gli istituti per persone disabili eccetera finalmente lo stato interveniva cosa è successo il privato invece di sentirsi complementare allo stato anzi protagonista perché allora è stato fino a quel momento lì si è come ritirato si è come seduto per lasciare spazio a uno stato che aveva mezzi tanti mezzi persone sicuramente formate in questi settori e quindi il privato sociale si è un po seduto e lo stato è entrato ha preso possesso ha colmato dei vuoti ha organizzato ha legiferato ha fatto questo fare è sembrato un fare un po da mammut noi diciamo dove c'è stato come un tentativo di portarci via anche la nostra identità forse di fare un po tavola rasa tavola rasa e quindi riorganizzare riorganizzare affinché lo stato potesse essere più presente e il privato sociale sempre meno diciamo che sono stati anni difficili poi c'è stato anche la una così il momento culturale del 68 quindi una presenza di persone legate maggiormente lo stato come la sinistra che avevano il desiderio di avere una pianificazione in tutto quello che il privato sociale stava facendo ecco io credo che quegli anni sono terminati oggi si può parlare di uno stato che chiaramente grazie a quello che insieme è stato fatto legifera sussidia ma anche un privato sociale capace ancora di avere una sua identità e quindi di poter discutere con questo stato di essere una presenza un attore quindi oggi io direi che tra stato sociale e privato sociale c'è complementarietà c'è almeno tentativo e tentativo riuscito di discussione cortella cortella ha vissuto sostanzialmente prima nella fase dove dove in fondo la carità la solidarietà si doveva esprimere con pochi mezzi e con uno stato abbastanza assente io sono stato assunto a caritas nell'ottanta per occuparmi dell'accoglienza dei both people vietnamiti sono stato assunto da cortella che stava partendo ecco cortella che puramente avendo vissuto in una realtà completamente diversa credo avesse colto perfettamente che c'era in atto una svolta epocale per cui anche queste idee credo che fosse tua quella di far venire in ticino alcune centinaia di both people che era un modo completamente nuovo perché vuol dire l'animazione di gruppi quindi tecniche diverse quest'uomo aveva intuito che c'era un cambiamento profondo rispetto a quel modo di occuparsi dei poveri che era stato utilissimo prima certo hai ragione io mi ricordo benissimo quando ho conosciuto cortella negli anni 72 con il sinodo ma soprattutto quando cortella è venuto a cercarmi io ero ancora studente a friborgo è venuto a cercarmi chiedendomi di venire a lavorare a caritas perché in caritas a quel momento c'era un'impronta di aiuto sociale molto individuale quindi la cosiddetta casistica io aiuto te singolo che hai un problema mancava qualcuno che in caritas desse una dimensione di progetti una dimensione comunitaria una dimensione di fare in modo che anche la carità potesse avere delle forme organizzate per rispondere dei bisogni sono stati gli anni 77 80 dove in questo questo brevissimo tempo con monsignor cortella si sono messi in piedi vabbè per esempio l'aiuto ai croati era l'idea di aiutare delle comunità e si sono messi in piedi dei progetti che la carita svizzera per esempio ci chiedeva questo della dell'accoglienza di popolazioni che venivano da lontano la prima volta in fondo la carita sticino si muoveva in queste in questo contesto e credo che monsignor cortella prima di andarsene abbia voluto anche con la tua assunzione con altre assunzioni dare una svolta alla sua caritas che aveva terminato forse un periodo il periodo dove la carità veniva fatta in maniera individuale maniera singola guardiamo una breve intervista che abbiamo fatto a pochi metri da qui alla ricezione di carita sticino dove collabora la nostra cara amica rita spinelli che ha lavorato tanti anni con cortella oggi in pensione ma continua probabilmente nello spirito di cortella a essere qui come volontari a fare appunto quel lavoro di incontro la guardiamo nel 77 un sacerdote mi aveva detto che c'era un posto alla carita se io cercavo qualcosa così di sociale e sono arrivata c'era una signorina anziana che voleva andare in pensione ma che don cortella non lasciava andare perché non aveva nessun altro ho fatto il mio tempo di prova poi ma scritto una lettera dicendomi che mi assumeva mi sono sentita subito in famiglia tant'è che ci sono ancora adesso e spero di andare avanti ancora per un po di volontariato carita sticino buongiorno buongiorno signora mi dica era una persona stupenda nel senso che accoglieva tutti ti metteva a tuo agio però lui non ha mai mandato via nessuno senza un aiuto anche piccolo la cosa che mi ha impressionato era l'uomo della provvidenza lui ci credeva allora non avevamo tanti soldi all'inizio mi ricordo la cassettina di di latta che aveva e finché aveva soldi li dava via siccome facevo un po tutto e dove fare anche gli stipendi per i pochi dipendenti che eravamo e la sera andavo diciamo signore non ho i soldi per gli stipendi e lui dice io ci credo nella provvidenza e deve crederci anche lei vedrà che ci aiuta il giorno dopo arrivava con la busta con i soldi alle volte anche la busta chiusa ancora e diceva guardi se sono abbastanza e io li aprivo e stranamente c'era dentro quello che mi serviva la tua esperienza personale di incontro questo uomo erano gli anni 72 c'era il sinodo il sinodo del canton ticino io ero stata chiamata a parteciparvi e siccome studiavo nel settore sociale mi hanno messo nel gruppo che si occupava dei compiti sociali della chiesa e lì incontro monsignor cortella praticamente la prima volta che potevo discutere sedermi a tavolo con monsignor cortella discutere e subito l'impressione di incontrare una persona al di sopra della media nelle sue capacità di guardare oltre l'orticello di saper proiettare i bisogni della nostra società oltre il tempo che si stava vivendo di dare delle risposte in fondo con lungimiranza perché la chiesa per fortuna ha una lunga storia ecco io mi ricordo che in quell'epoca ero piuttosto tentata così di lavorare presso il dipartimento allora si chiamava dipartimento opere sociali piuttosto che magari entrare in una caritas che non sapevo neanche bene cosa fosse o che il nome suonava un po così la carità e a quell'epoca una non capiva il senso profondo di questa parola infatti terminati gli studi ho fatto due anni in dipartimento e questo mi ha dato la possibilità di mettermi dall'altra parte del tavolo per un attimo poi ho continuato a fare altri studi e monsignor cortella ricordandosi forse di questa giovane che faceva degli interventi un po così al suo tavolo è venuto a cercarmi ecco io credo che è grazie all'incontro con monsignor cortella se io ho capito l'importanza del privato sociale perché vedere lui che si batteva per la sua caritas ma caritas in quel momento voleva dire poi impegno con i rifugiati in italia quando lui ci raccontava la sua storia le sue battaglie che aveva fatto anche le sue battaglie politiche mi ricordo per la protezione della maternità per il congelo della maternità cioè quando io ho incontrato quest'uomo ho capito che essere cristiani vuol dire avere un'identità precisa anche nel modo come una si pone nella professione che forse fino a quell'età lì vent'anni ventidue anni la cosa non era così chiara invece questo incontro ho voluto dire ridarmi la possibilità di capire che il cristianesimo c'entra anche con una professione e che l'atteggiamento che una ha nel cuore lo deve giocare anche attraverso quello che fa nel quotidiano quindi quando lui mi ha chiesto di venire alla caritas io ho capito che lì stavo scegliendo un modo mio di pormi nella società e di pormi nell'attività sociale da quel momento non ho più abbandonato il privato sociale anzi il privato sociale per me è diventato come una passione cioè una grande passione io credo che compito di noi cristiani oggi che lavoriamo nel sociale è quello di difendere delle opere che fanno parte della tradizione di noi cristiani nel nostro cantone per esempio. Cortella predicatore era uno splendido predicatore cioè affascinava la gente ha fatto delle prediche meravigliose purtroppo molte sono andate perse perché pare che tu abbia assistito. Io devo dire che ho un'immagine di Cortella che butta via tutto che negli anni 80 per fare un po' di pulizia nel suo ufficio ha cominciato a tirar fuori da cassetti carte stracciarli davanti ai miei occhi e io dicevo Monsignore e la storia cosa dirà? La storia dirà e lui ma no con fare superiore. Ecco un po' di queste omelie sono state ritrovate e il professor Borghi è riuscito a fare una ricerca a fare una pubblicazione lo ascoltiamo. Nella lettura di centinaia e centinaia di omelie l'impressione che mi sono fatto è che accanto a una serie di testimonianze inevitabilmente datate sia dal punto di vista dell'impostazione teologica sia dal punto di vista dell'attenzione culturale in genere ve ne fossero molte invece che erano non soltanto di assoluta attualità ma per certi aspetti addirittura profetiche. Mi riferisco in modo particolare ai rapporti tra l'essere umano e i beni materiali, al rapporto tra lo Stato e il cosiddetto privato sociale, alla idea di Dio, del Dio di Gesù Cristo che vale la pena sempre di fondare a partire dai testi biblici e che invece oggi per tanti aspetti sembra si cerchi di fondare in altro modo. Noi vediamo come da parte sua ad esempio ci sia una grande ricchezza di citazioni di due testi evangelici in particolare. Un brano del Vangelo secondo Giovanni nel capitolo terzo Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio perché il mondo si è salvato e non si è condannato e dall'altro lato molte citazioni del discorso della montagna, capitoli 5 e 7 di Matteo, con particolare attenzione alla necessità che la giustizia sia vissuta dal Vangelo all'esperienza di tutti nel senso più ampio e intenso possibile. Con l'intervista integrale di Anna Scoburghi che ci ha fatto un quadro molto articolato, molto bello su questa ricerca, su questa pubblicazione in fondo sul suo incontro col personaggio di Cortella è online quindi può essere vista integralmente sul nostro sito. Don Orione, altra figura che vabbè noi non l'abbiamo conosciuto personalmente ma l'abbiamo conosciuto attraverso gli scritti e attraverso le opere. Questo istituto Don Orione evidentemente fa parte un po' della nostra storia, ci andavamo a fare caritativa, io ci ho anche lavorato qualche anno in gioventù. C'è realtà di accoglienza della persona portatrice di handicap con un fondatore interessante. Ecco, abbiamo visto sui giornali che la fondazione San Gottardo prende le redini dell'istituto Don Orione. Sintetizzaci cosa è successo perché tu sei mesi fa sei andata all'istituto Don Orione. Ma brevissimamente, c'è stato bisogno di una riorganizzazione dell'istituto, la congregazione mi chiede, su suggerimento di Don Luciano, mi chiede di dare un colpo di mano, direttore mi chiede di dare un colpo di mano, io accetto proprio perché questo istituto fa un po' parte della nostra storia. La caritativa, le prime colonie integrate nel canton Ticino con gli ospiti di Don Orione, una presenza nella Capriasca. E quindi mi sono detta, ma sì, io metto a disposizione volentieri le mie capacità, se poi ce ne sono, ma per dire, metto a disposizione volentieri qualcosa per aiutare un'opera, un'opera della Chiesa Cattolica. A che cosa? A riorganizzarsi? A riorganizzarsi, a ritrovare una sua modalità di funzionamento. Poi, come sempre, quando uno inizia con passione qualcosa, ci si innamora anche un po', il lavoro è diventato non solo organizzativo, ma è diventato l'incontro con una realtà che ti pone delle domande, l'incontro con un bagno con le persone cosiddette portatrici di handicap, un gruppo di educatori che in fondo aveva bisogno di una guida. Ecco, al momento in cui la congregazione, per una sua riorganizzazione più completa della congregazione in Italia, ha avuto bisogno di ripensare, ma cosa facciamo di questo istituto? Ha ancora senso mettere qui un direttore, un direttore magari laico che è noi essere in Italia? Cosa vuol dire? Parlando con le persone responsabili di questa congregazione, è uscita l'idea del prendere in mano noi la gestione per assicurare una continuità, questo è l'importante, assicurare la continuità di un fondatore che è stato grande nella storia sociale italiana, ma non solo, europea direi, una continuità perché anche la Fondazione San Gottardo, prima di tutto si rifà un santo, magari non è così grande come Don Orione, San Don Orione, non lo so, comunque sono due carismi che si incontrano e questo è importante. E poi perché anche noi della Fondazione San Gottardo poniamo le nostre radici del nostro lavoro nel cristianesimo. E con due parole, la San Gottardo che cos'è e cosa fa? San Gottardo è una fondazione nata una decina di anni fa per raccogliere persone disabili, abbiamo una casa che si chiama Casa al Cedro a Lugano che accoglie 14 persone, un orto, un'azienda agricola a Melano dove ci sono una ventina di persone che ruotano attorno questo centro, abbiamo degli appartamenti protetti, abbiamo un centro diurno, è una realtà che lavora, opera nel settore dell'handicap e delle persone disabili in generale e quindi è stato quasi naturale prendere sotto, diciamo, l'ala di San Gottardo anche questa casa che rimane proprietà del Don Orione, che però la gestione da partire dal primo luglio sarà in mano nostra. Questo è un DVD di una trasmissione, di un video che è online, che tutti possono vedere, è stato un incontro con la Fondazione San Gottardo quando probabilmente nessuno pensava che avrebbe poi gestito anche… No, no, ma guardi, questo è proprio stato, direi proprio, il lasciarsi determinare della realtà, cioè una realtà che ti pone delle domande, una realtà che ti sollecita, una realtà che ti chiede cosa puoi fare tu per salvare un'opera. Due parole, ma per sintetizzarmi come un personaggio come Don Orione, ma ce ne sono altri, per certi versi anche Cortella, avevano dentro una visione che andava lontano. Personaggi così ti colpiscono, perché in fondo non sono dei tecnici, sono delle persone carismatiche che avevano un'intuizione in un'epoca e che poi oggi rileggiamo e troviamo che sono geniali. Cioè io credo che sia importante incontrare l'uomo. Io mi ricordo sei mesi fa ho voluto rispolverare un attimo le mie conoscenze sul Don Orione, ho letto un libro e sono rimasta affascinata, perché magari la traduzione nel concreto ha tradito un po' il carisma dell'uomo, però quest'uomo nella sua epoca ha avuto una capacità di sguardo immenso, come l'ha avuto Cortella, come l'hanno molte persone che ho potuto anche incontrare nella mia vita e che sono profondamente grata. Quindi il compito... È come uno sguardo forse sulle persone più che... Sì, certo, non tanto uno sguardo del saper della tecnica, perché penso che Don Orione non sapesse niente di contratti di prestazione, non avesse il management in mano, non aveva voglia di imparare a far funzionare il computer, neanche Cortella, che batteva a macchina velocissimamente tutte le sue prede. Però queste persone avevano una capacità di sguardo sull'uomo, sulla persona, sui bisogni della persona che andava al di là della loro epoca e riusciva a intravedere delle risposte importanti che sono rimaste nella storia. E io credo che sia importante che chi segue queste persone possa farne memoria. Una trasmissione come questa è importantissima, perché fa memoria di Monsignor Cortella, che è stato un uomo splendido per la nostra diocesi. Fa memoria di Don Orione, che è stato un uomo che ha creato una miriade di luoghi di accoglienza, ed è giusto che a queste persone si dia una grande testimonianza e chi può, nel suo piccolo, con tutti i limiti, faccia vivere questa memoria. Quindi non tanto che si voltino delle pagine, ma che queste personalità si capisca l'attualità del loro pensiero. C'è una cosa molto bella che tu mi hai detto fuori microfoni. La decisione della Fondazione Don Orione di fare questo passo, di dare alla San Gottardo la possibilità di continuare alla loro opera, è stata presa alle ore 10 del 21 gennaio del 2009, che è una data che per me e te, un sacco di amici, è una data importante. Il resto della nostra rivista è il momento in cui moriva Carlo, un amico di Caritas, Fondazione San Gottardo, credo che è una grossa fetta. C'è lui. Ma diciamo che è una cosa che ha colpito moltissimo, perché questa avventura a Lopagno io l'ho iniziata con un confronto, direi quotidiano, con Carlo, l'abbiamo portata avanti insieme, lui è stato di aiuto, soprattutto grazie alle sue competenze, come già direttore di un istituto, competenze che io non avevo. Quindi è stato un lavoro insieme e anche la decisione di fare questa proposta, di prendere in mano questa struttura, l'abbiamo discussa insieme. Quindi a me è colpito moltissimo quando Don Gianni, presidente della Fondazione Don Orione, mi ha detto che la congregazione aveva deciso di sì sul dossier che io ho presentato praticamente alle 10 meno un quarto del 21 gennaio, momento in cui Carlo ci lasciava. e questo per me è un segno che siamo sulla strada giusta e che dobbiamo andare avanti. Su questo credo che possiamo salutare i nostri telespettatori. Rivederci. 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 Rivederci.